Eravamo in 400, forse 500. Alcuni sono stati pensati a lei. Io ero un uomo. Ho trascorso i sette anni isolata dal ragazzo del gruppo. Cardon Kay era un inferno. Per dire il vero, volevo solo sapere se c'era la piscina. Sei uno stronzo, lo sai? Me lo dicono tutti. Sono entrati in attività. Il posto è questo. Bene, qual è il piano? Facciamoli fuori. Facciamoli fuori? Non è un piano. C'è qualcuno sul camion. Bene, signore. Su, via. Sì, i cattivi non ci sono più. Andate, gioite, amate. Magari non per lavoro. Se volete tornare pulite, fatelo ora. Le strade sono libere dalla droga. Non fate cazzate. E sono andate. Credi che due bioterroristi emarginati sentiranno mai grazie da chi salvano? Sì. Credo tu abbia salvato me. Quindi hai deciso di smetterla con la tua strage rituale di spacciatori. È metà del tuo fascino. Ah, sì. E l'altra metà? In realtà è un unico grande fascino. Dai, non voglio rinunciare alle mie passioni. Devo solo trovarne di nuove. Come la box. È così che ti giochi nostri momenti di intimità. Tu hai qualche problema con i sentimenti, vero? Portiamo il resto della droga al porto. Qualche pesce si farà un bel trip. Sono stannato. Io ti piace. Io ti piace. Grazie a tutti.